Africa, Sud America e adesso Arabia Saudita è la ricerca dell'avventura e di deserti da esplorare. Da gennaio 2020 riparterà Dakar, il rally più massacrante al mondo che si correrà in Arabia Saudita. Con qualche spettacolare cambiamento, ma sempre pronto a stupire, alla presentazione ufficiale il direttore David Castera ha dichiarato che le tappe iniziali saranno caratterizzate dalle piste in sile WRC su uno sfondo montagnoso. Un veterano come Carlos Sainz dice che il Sud America è stata un'esperienza eccezionale per la Dakar, ma era ora di cambiare. Credo che l'Arabia Saudita possa portare molto di nuovo e sono molto eccitato. Inizia così la terza vita della Dakar. La prima si era disputata in Africa dal 1978 al 2008, la seconda in America Latina dal 2009 al 2019. Il contratto è di cinque anni e promette di stupire. Grazie a tutti.